Per noi avere le strutture comunali in sicurezza, in previsione di futuro e nevicate, ci mette in condizione di tranquillità. Dopo Ovaia e l'alluvione, il tris di calamità naturali che si sono abbattute su Roccapietori, ha compreso anche la neve, tanta neve come non la si vedeva da almeno sei anni. E sono state giornate di duro lavoro e di impegno per le squadre della protezione civile, dell'ANA e del soccorso alpino. Liberare i tetti minacciati dal peso della neve è stata la priorità. Strutture sempre in allerta per ogni necessità. Esse devono rimanere operative in caso di possibili future emergenze, purtroppo speriamo di no. È ormai consolidata l'amicizia e la stima che a Rocca tutti noi sentiamo noi cittadini per questi volontari che vengono da fuori, i quali purtroppo sono ormai di casa sul nostro territorio. Dal famoso inverno del 2014 in poi il Paese ha vissuto in simbiosi con gli uomini della protezione civile e il personale del soccorso alpino. A loro il primo cittadino di Roccapietore ha espresso la sua personale gratitudine assieme alla riconoscenza di tutta la comunità. Questa operazione che ci ha anche permesso di iniziare a testare e collaudare l'operatività del nuovo gruppo comunale ANA di protezione civile. L'auspicio ora è di passare un inverno più sereno.